Come risolvere così i problemi riguardo all'errore di connessione che quando provi a connetterti a un server e stai giocando si disconnette proprio per colpa della connessione di rete che hai. Può essere perché la rete è iDriver obsolete quindi in questo caso vanno aggiornati sul gioco Once Human quindi in questo caso andiamo direttamente sulla nostra rete facciamo tasto destro su impostazioni di rete quindi qua sopra impostazioni di rete avanzate andiamo così sulla nostra rete. Quindi io uso il cavo LAN e non ho problemi riguardo ai server quindi vado direttamente sul mio cavo LAN questo qua. Altre opzioni schede facciamo modifica. Cento fino a giù fino a trovare il protocollo internet versione 4 TCP. Utilizzo i seguenti indirizzi server DNS andiamo così a scrivere 888888844. E facciamo ok. Una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo anche ad aggiornare la nostra scheda di rete. Ora andiamo direttamente sul logo Start di Windows questo qua. Tasto destro sopra gestione dispositivi. Vado così ad aggiornare la mia scheda di rete. Tip link wireless M6 Express adattatore. Aggiorno a driver. Questo è per la scheda di rete Wi-Fi. Cerco il driver nel computer. Scegli da un elenco. Clicco il primo. Faccio avanti. Scarico e installo così il driver. Una volta fatto lo faccio anche peggio. Il mio cavo LAN. Aggiorno driver. Cerco il driver. E scegli da un elenco di driver disponibile. Metto questo qua. Faccio avanti. E installo. Se non dovesse funzionare puoi direttamente scaricare e aggiornare i driver della tua scheda di rete attraverso il programma Driver Easy che ti ho lasciato in descrizione. Tu devi scaricare la prova gratuita. Anzi la versione gratuita. Esistono versioni gratuita e poi le altre piani a pagamento. Quindi fai così la scansione e vedi cosa devi scaricare e aggiornare. Quindi vado su aggiorna. Scendo fino a giù. Fino a trovare la mia scheda di rete. Tip Link Wireless MCI Express Adattatore. Ovviamente chi ha la versione gratuita ci metterà un bel po' a scaricare il driver. Quindi per questi 9 MB ci metterà parecchi minuti. Quindi per farti un piccolo esempio vado direttamente a cliccare su aggiorna questo di 13 KB. Faccio crea manualmente. Faccio continua. Installa manualmente. Una volta fatto mi uscirà così la cartella dei driver. Copio così il percorso file. Vado di nuovo su gestione dispositivi. Vado così sulla mia scheda di rete. Faccio aggiorno a driver. Cerca i driver nel computer. E qua ci metto il percorso file che ho copiato in questa cartella. Lo incollo qua. Faccio avanti e installo. Era per farti un esempio su questo driver qua. Ma tu devi scaricare e installare il driver giusto per la tua scheda di rete. Se il problema persiste. Riavvia il tuo modem. Scollego il cavo LAN. Se non hai il cavo LAN. Comincia ad usare il cavo LAN. Non usare più la connessione Wi-Fi. Oppure puoi fare direttamente impostazione rete e internet. Disconnettiti. Da tutte le reti abilitate. E tieni solamente una sola attiva. Questa qua. Questa è mia Ethernet. E tengo abilitato solamente questo. Puoi fare direttamente disabilita. Abilita. E poi riavvia il sistema. Quindi per altri problemi ancora. Puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. grazie a tutti